Un detto dice a volte ritornano e noi lo abbiamo fatto con grande piacere. Siamo tornati a Nuro per vedere un pochino la conclusione della prima appendice del progetto Agitamus realizzato dagli alunni delle scuole del capologo Barbaricino. Ma ne parliamo anche con Carmen Mura che è il rappresentante isolano della FISDIR. Una grande soddisfazione perché ove ce ne fosse bisogno si sottolinea ancora la bontà del lavoro che vede protagonisti, i giovani, accoglienza, inclusione, parole d'ordine normali. Esattamente, io sono particolarmente felice principalmente perché sono onorese anche se ho questo ruolo regionale e venire qua e vedere l'auditorium di questa scuola stra pieno di ragazzi e di bambini entusiasti vuol dire che già è un successo e soprattutto attenti perché hanno seguito un po' tutto il progetto e quindi questa già è una bella soddisfazione penso per il CIP e per tutto il mondo paralimpico. Nelle mani dei ragazzi c'è il futuro, c'è il domani e partire da queste basi di grande normalità noi continuiamo a sottolineare che riguardano appunto l'inclusione, l'accettare la diversità e prenderlo quasi come un... è come d'altronde, è la diversità un bene prezioso da qui abbiamo tanto da imparare. Credo che sia già un principio di indirizzo buono per il prossimo futuro per questi ragazzi. Carmen? È un buon punto di partenza, io nel breve intervento che ho fatto ho specificato proprio questo che la scuola dopo la famiglia è la seconda istituzione educativa più importante per cui bisogna partire proprio dalla scuola, bisogna educare i ragazzi ma anche gli insegnanti perché abbiamo difficoltà più che con gli alunni abbiamo difficoltà ogni tanto con gli insegnanti con i docenti che non sono spesso propensi ma a volte neanche preparati per gestire la disabilità per cui benvengano queste iniziative, il CIP si è fatto diciamo promotore principale di questo evento e noi come federazioni siamo felici perché anche noi abbiamo il nostro spazio, insomma è questo importante.